Ciao a tutti, oggi prepareremo la besciamella. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 15 minuti. Gli ingredienti sono burro, sale, noce moscata, pepe nero, farina e latte. Diamo via la ricetta. Andiamo a inserire nel boccale il burro. Andiamo a scioglierlo per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Andiamo adesso la farina. Andiamo ad amalgamare per 3 minuti, sempre sento gravi, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere il latte, il sale, un po' di pepe nero, un po' di noce moscata. Chiudiamo. Andiamo a cuocere per 8 minuti, 100 gradi, velocità 4. bene, la besciamella è pronta. Andiamola a mettere in una salsiera. besciamella a bimbi, grazie e alla prossima ricetta.